38, è partita la volata, 2,52, siamo ai 2,50, il numero 38, 2,40, 52, 29, 27, seguono in fondo i numeri 47, 11. Traguardo volante, il fritto passaggio, traguardo volante, primo. Secondo traguardo volante, non guardare indietro, non guardare indietro. 87, 71, 87. Senti, guardare indietro, guardare indietro. Un applauso per Rocchetti Filippo Maria Colifiume, vincitore per il secondo anno consecutivo Consegna il premio il signor Antoniossi, assessore allo sport di Pano